Benvenuto all'ingegnere Carmine Amato, attore dell'azienda Energy On. Ingegnere, benvenuto con noi. Parliamo un poco di ecologia, di energie rinnovabili. Lei nella sala convegne ha appena presentato un progetto che si chiama come? Urban Riser. E in che cosa consiste esattamente? Consiste nel recupero di energia sfruttando quella che viene gestita nelle gallerie delle metropolitane di tutto il mondo. E quale sarebbe il vantaggio dell'applicazione di questo vostro progetto? Il progetto Urban Riser, come ho detto, utilizza l'area spostata dai treni che passano nei tunnel della metropolitana e quella gestita dalle camere di aspirazione che gestiscono i fumi che devono essere espulsi dalla galleria. Questi cammini di areazione già esistono, nel nostro sistema viene inserito negli stessi e consente di produrre energia elettrica immediatamente sfruttabile in superficie a disposizione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici oppure per la pubblica illuminazione. Da un chilometro di tunnel di metropolitana si possono ottenere circa 90.000 kilowatt di energia elettrica all'anno, il che, tradotto col sistema incendivante in Italia, consente di avere una rendita di circa 27.000 euro. Oppure, utilizzando i dati che abbiamo dalla metropolitana di Shanghai, dove siamo stati come rappresentanti dell'Italia all'estero con il concorso Talento delle Idee insieme al ministro Brunetta nel novembre del 2011, quindi come stavo dicendo dalla metropolitana di Shanghai, si riuscirebbe con il nostro sistema a produrre energia elettrica in grado di soddisfare il fabbisogno medioannuo di circa 1.000 auto elettriche. C'è stata presentazione o comunque sia un rapporto relazionale con le aziende delle metropolitane italiane ad oggi? Ad oggi, questo è il terzo concorso a cui partecipiamo, ancora non abbiamo avuto un contatto concreto che ci consenta di realizzare un tratto sperimentale della nostra innovazione. Ad esempio avete effettuato uno studio per cui preferireste iniziare un test di prova su una città, su una metropolitana piuttosto che un'altra? Noi in Cina non siamo andati avanti, anche se c'era molto interesse per la nostra azienda, proprio perché vogliamo iniziare in Italia. Quindi ci piacerebbe applicare la nostra innovazione iniziando da Napoli o Roma o Milano. E allora non resta che augurarvi in bocca al lupo dopo questo appello alle aziende metropolitane e che dire, buona innovazione e buona energia rinnovabile. Grazie mille. Arrivederci, grazie di essere stato con noi. Grazie, grazie.